Bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video e oggi siamo qui tornati su Fortnite per parlare ovviamente dell'evento finale perchè è oggi che io sto registrando il video martedì, il giorno che è successa questa cosa che adesso vi dirò voi lo vedrete il giorno dopo se non sbaglio il video, quindi mercoledì e ragazzi è uscito il timer dell'evento nella lobby, ok? è uscito alle 15, solo nella lobby però, infatti in partita normale, cioè dentro la mappa di Fortnite il timer ancora non c'era ora sono le 17.03, quindi dovrebbe essere arrivato il timer, perchè avevamo detto le 17, vediamo se è vero il timer dovrebbe essere proprio in questa casetta qua, quindi vediamo se avvicinandoci lo vediamo però ragazzi vi chiedo una cosa, cioè vi chiedo delle cose, cioè proprio non ci mettete nulla facilissime però importantissime per me iscrivetevi al canale, lasciate il like, attivate la campanella e condividete il video con tutti i vostri amici fatelo tutti, importantissimo allora io il timer non lo vedo il timer doveva essere qua sopra sopra la casa non c'è non c'è ancora, io non so perchè non l'hanno messo perchè il timer ragazzi dovrà essere proprio qua sopra, poi nella mappa manco si vede quindi niente cos'è sta missione che devo fare? è di Byte vero? no? boh vabbè dovrebbe essere qua sopra, il timer non c'è le fratture comunque sono ancora lì, uguali diciamo niente ragazzi il timer sarà qua sopra cioè sopra questa casa ma ancora non è arrivato quindi niente, niente timer per adesso dovrebbe arrivare anche in gioco perchè il timer in realtà c'è già solamente che è nella lobby cioè voi se entrate in lobby ce l'avete il timer però non si sa per quale motivo qua non c'è ancora in partita normale ma qua cos'è che devo fare? vabbè andiamo a dare una controllatina anche al punto zero così ci lanciamo dentro l'acqua e andiamo nel punto zero e poi ragazzi ci spostiamo subito perchè andiamo a vedere anche la schermata dell'evento ok? perchè si c'è anche la schermata dell'evento vediamo se sprofondiamo giù dai vai giù macchina perchè la macchina non va? dai macchina vola sott'acqua voglio che la macchina sprofondi così io vado giù ok sta scendendo piano piano perfetto scendi scendi ok vediamolo no non si vede eccolo lì guardalo eh non l'ho visto bene vabbè no in teoria è tutto a posto comunque si si è tutto a posto va bene niente ragazzi spostiamoci su sulla schermata dell'evento ok eccoci qui sulla schermata meno male che ho fatto lo screenshot se no perchè nelle notizie non lo vedo più allora finale del capitolo 3 frattura l'evento si chiama frattura mamma mia ragazzi questa è una delle immagini più belle che forse abbia mai fatto per un evento anzi secondo me la più bella perchè è proprio apocalittica è una catastrofe guardate che figata veramente proprio bella questa schermata io spero che ce la ce la diano dopo l'evento cioè spero che finisca l'evento entramo nella nuova season in 4 dicembre e ci diano la schermata o che sia nel pass basta che mi date questa schermata perchè è troppo bella la voglio assolutamente allora leggiamo cosa c'è scritto in basso a sinistra frattura la realtà dell'isola si sta disgregando state ricostruirla gettati nella misca il 3 dicembre alle 22 ora italiana per l'irripetibile finale del capitolo 3 ah ragazzi vabbè poi scopri di più su ok il suite di fortnite cioè guardate questa schermata non capisco bene in che punto siamo ma guardate ci sono un sacco di tornanti di cromo che stanno risucchiando tutta la mappa diciamo stanno prendendo tutte le zone della mappa io vedo per esempio la testa dell'orso di Tanastrana madonna mia vedo il santuario perchè quello lì è il santuario quello vecchio intendo quello dei 7 poi c'è anche una casetta che dal deserto arriva quella casetta vedo anche un benzinaio c'è anche la gente del caos ciao fratrima e poi c'è Byte che viene tenuto per mano da twin magari Byte alla fine non era manco cattivo magari semplicemente è stato preso non lo so in realtà però ragazzi ora voi non lo vedrete a schermo purtroppo magari ve lo metterò come post community ma adesso vi leggo che cosa c'è cosa c'è hanno scritto quelli di fortnite sul sito dell'epigames adesso ve lo leggo sul sito di fortnite sapete cosa c'è scritto aspettate che lo devo trovare eccolo qua ho trovato se voi andate sul sito di fortnite e troverete il nuovo blog che hanno pubblicato oggi alle 15 dove parlano dell'evento ok c'è scritto proprio l'evento finale del capitolo 3 fortnite di fortnite frattura gioca al 3 dicembre allora vi leggo tutto ok voi non lo vedrete purtroppo ma ve lo leggo io dal team di fortnite non cadere a pezzi come il punto zero come guardate sta schermata mamma mia che roba allora sabato 3 dicembre tu fatti in frattura ovvero l'evento il finale del capitolo 3 di fortnite un evento social inaspettato e ultraterreno ultraterreno ma ok che tu decida di fare squadra o avventurarti in singolo il desiderio dell'isola è nelle tue mani ovviamente nelle tue mani non è che se noi spariamo all'araldo cambia ma cioè non cambia la mappa e se invece non gli spariamo la mappa cambia è nelle tue mani nel senso che noi il nostro personaggio nell'evento avrà farà delle cose cioè non è che siamo noi che decidiamo l'evento sia chiaro non è che se non spariamo all'araldo cambia la mappa però adesso vi leggo delle cose importanti frattura è un evento ascoltate bene frattura che è il nome dell'evento è un evento di gioco irripetibile che avrà inizio il sabato 3 dicembre al 2022 alle ore 22 ore italiana la playlist frattura aprirà 30 minuti prima quindi la modalità frattura si potrà già entrare nella modalità alle 21 e 30 e quindi potrai entrare prima dell'inizio dell'evento potrai anche entrare a evento iniziato fino alle 22 e 40 ore italiana cioè raga allora già solamente che puoi entrare durante l'evento quindi se tu magari sei arrivato tardi o non ti fai entrare cioè tu hai comunque l'opportunità di entrare durante l'evento anche dopo anche già quando hai iniziato ok quindi credo che abbiano preparato tanti server fatti bene spero però raga c'è scritto che possiamo possiamo entrare fino alle 22 e 40 cioè raga allora non sto più capendo perché il 22 e 40 se inizia alle 22 vuol dire che il 40 minuti dure ed è una roba molto grande e sarà una figata assurda ragazzi io vi aspetto in live non mancate se mi volete bene se ci tenete al canale non dovete mancare assolutamente venite io vi aspetto quel giorno andremo in live dalle 20 e 30 per giocare un po' e poi per guardarci l'evento che probabilmente durerà 40 minuti 40 minuti non è che evento e basta di 40 minuti cioè in quei 40 minuti avremo tra cioè passeranno tra filmati e noi che dovremo fare qualcosa ok quindi effettivamente non saranno proprio 40 minuti ci sono delle ipotesi ovvero ci sono delle teorie che dicono che l'evento durerà 15 minuti e gli altri 30 minuti ehm si gli altri 30 minuti vabbè un po' un po' meno vabbè 10 minuti ok gli altri 30 minuti 25 quando quel che è ehm si dovranno fare delle missioni perché durante l'evento non so se prima o alla fine dell'evento si potranno fare delle missioni con degli npc che ti parleranno della storia ovviamente non sono missioni a caso eh sono missioni proprio per la storia quindi ragazzi non sto più nella pelle non vedo l'ora sono troppo in hype veramente vi giuro forse sono più in hype cioè non sono mai stato così tanto in hype per l'evento finale comunque si sembrerà proprio che 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 l'evento durerà 40 minuti cioè in 40 minuti succederà qualcosa cioè noi per 40 minuti dovremo fare qualcosa non si sa se ci saranno i filmati o dovremmo giocare noi questo ancora non si sa ma 40 minuti e il bello cioè il bello non lo so ma non lo so perché io raga ogni volta quando finisce un evento pubblico la mia reaction con un video ok pubblico il video della mia reaction all'evento per chi si è perso la live il problema è che se dura 40 minuti cosa faccio un video di 40 minuti o faccio due parti cioè la parte 1 e la parte 2 quindi magari dove guardiamo l'evento e dove poi giochiamo e forse farò così non lo so perché 40 minuti di video è un po' troppo forse ragazzi per questo fine di stagione aspettatevi cose grandissime comunque non vedo l'ora io vi aspetto ve lo ripeto non mancate se ci tenete non mancate se ci tenete a me al canale non mancate ci tengo molto io vi ho mentre vi sto parlando vi ho lasciato questa schermata spettacolare cioè credo che sia veramente una delle più belle mi dispiace che ci sia lì una strana bella lì distrutta vabbè almeno non c'è un pezzo di bobine brulle se ci mettevano pure un pezzo di bobine brulle che magari c'è io non lo vedo se ci mettevano pure un pezzo di bobine brulle a posto piangevo vabbè ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale lasciate like attivate la campanellina condividete il video con tutti i vostri amici io non ce la faccio più sono troppo in hype ci becchiamo in un prossimo video e non vedo l'ora di vedere l'evento frattura insieme a voi e non vedo l'ora